Cremona è una squadra che posso tranquillamente dire che gioca la miglior pallacanestro in Serie A, hanno un coach eccellente che sta facendo molto bene con i talenti che ha a disposizione e che giocano un basket frizzante che è chiaramente difficile da affrontare per qualsiasi squadra, noi compresi. Ho molto rispetto per il loro coach sia dal punto di vista professionale sia perché è una brava persona e sarà un buon test per noi giocare nuovamente contro di loro. All'andata riuscirono a vincere e noi chiaramente non fumo contenti perché siamo stati in controllo del match fino alla fine ma abbiamo commesso poi degli errori che ci sono costati la vittoria. Domenica sarà uno scenario completamente diverso, abbiamo qualche infortunato mentre loro saranno al completo in termini di roster, hanno semplicemente perso soltanto Crawford ma l'hanno sostituito con Stojanovic e quindi sarà una bella battaglia e spero che i tifosi vengano a sostenerci come sempre per darci tutto il supporto possibile. Sono una squadra molto difficile da contenere specialmente per quanto riguarda la fase offensiva, giocano con molta fiducia e sarà una sfida per noi. Rispetto alla situazione in cui ci troviamo vorrei innanzitutto ringraziare il presidente De Cesare e Nicola Alberani per aver aiutato la squadra in questo momento difficile sbloccando il mercato e portandoci Sillings. Non abbiamo mai avuto dubbi sul fatto che questo sarebbe successo e siamo contenti di avere un giocatore giovane come lui ma allo stesso tempo con molta esperienza in Serie A che ci aiuterà in questo momento non semplicissimo. Poi è molto probabile che avremo in squadra anche Amade Ndiaye e Caleb Green che è grandioso per noi. Non so quanto possiamo aspettarci da loro specialmente da Amade Ndiaye che non ha praticamente mai corso nelle ultime cinque settimane ma si sta lentamente reintegrando al gruppo. Per quanto riguarda Green invece l'infortunio è stato sicuramente più breve però è un tipo di giocatore che dipende molto dalla forma fisica per cui cominciare ai livelli a cui era prima non sarà semplicissimo. Tuttavia è bello riaverli con noi e speriamo di poterli avere al 100% il prima possibile. E come sapete il club è in trattativa con De Monte Harper, trattativa che sta andando bene. Speriamo di averlo presto a disposizione anche se non per domenica già a partire dal prossimo match. Come squadra ci aspetta un periodo difficile sia per integrare i nuovi giocatori a disposizione ma anche per integrare chiaramente quelli che sono i giocatori infortunati. In particolare adesso ci concentriamo su Seelins. Non è un compito semplice perché si tratta di ricostruire la squadra in un certo senso e noi abbiamo molto tempo giocando due volte a settimana quindi tutti dovranno dare il massimo in termini di concentrazione. Dobbiamo raggiungere, vogliamo raggiungere due obiettivi nelle prossime tre settimane. Il primo è fare in modo di assicurarci un'altra vittoria in Champions League per passare al secondo turno. È un obiettivo che sentiamo di meritarci per cui abbiamo sofferto e lottato tanto ma non sarà semplice raggiungerlo. E poi c'è la questione delle Final Eight per cui appunto vogliamo arrivare nella massima condizione ma anche lì non sarà facile perché si deve appunto ricostruire la squadra. Siamo stati costritti ad usare tanta zona ultimamente a causa del numero di giocatori a nostra disposizione. È sempre buono per tutte le squadre avere un'arma tattica come la zona. La usano praticamente tutti. Io come coach personalmente preferisco mettere più intensità in difesa per la maggior parte del tempo ma chiaramente la zona può essere utile per rompere il ritmo offensivo degli avversari. Tuttavia speriamo di ritornare alla nostra situazione difensiva solita che fin ad ora ha portato tanto successo. E non abbiamo poi menzionato Demetris Nichols che speriamo di poter recuperare il prima possibile. I pronostici dicono che sarà out per almeno tre settimane ma tenderemo a considerare la situazione di settimana in settimana e vedere se potremo avere la disposizione per le Final Eight. Dipende da quello che si intende con la definizione di leader perché si può essere leader in diverse situazioni, in diversi modi. Kiefer ha fatto sicuramente dei passi in avanti nelle ultime partite a partire dalla famosa sconfitta contro Trieste nei primi giorni di dicembre ed ha giocato davvero bene. Ma bisogna dare merito anche agli altri giocatori che hanno riconosciuto il momento positivo di Sykes dandogli spesso la palla e servendolo al meglio. In particolar modo Ariel Filloy. Kiefer è il primo a riconoscere il merito dei suoi compagni di squadra per quanto stanno facendo per lui. Come coach sono contento del suo rendimento perché lo merita come giocatore e perché è davvero una brava persona. Infine volevo chiamare a raccolta i tifosi in questo momento. Ne abbiamo particolarmente bisogno specialmente per il match di Champions League contro Le Mans. So che i turni infrasettimanali solitamente non sono molto seguiti per forza di cose dai tifosi ma credo che avremo bisogno di tutto il supporto possibile per battere un team come Le Mans che ha recentemente vinto contro il Novgorod in casa una partita molto difficile e noi avremo bisogno appunto di tutto il supporto possibile per qualificarci al secondo turno della competizione europea.